C'è una scrittrice israeliana molto brava che va ad aggiungersi allo stuolo di scrittori israeliani contemporanei molto bravi, narratori, romanzeri, che sembrano avere qualche volta una marcia in più, quasi nel DNA. Si chiama Zerui Hashalef, in italiano sono già stati pubblicati alcuni suoi romanzi, Feltrinelli ha pubblicato l'ultimo suo libro intitolato Dolore, con una copertina molto bella, molto sopria, in cui campeggia il titolo Dolore, ma non bisogna pensare a una tragedia dettata dal titolo. Certo c'è anche un po' di dolore perché la protagonista, che si chiama Iris, ha due dolori che si annunciano subito all'inizio del romanzo, quindi posso parlarne brevemente, perché di solito poi qui non si raccontano mai le trame, altrimenti che gusto c'è. Iris, che è sulla quarantina, ha avuto un dolore perché a 17-18 anni ha vissuto un grandissimo amore, intensissimo, bellissimo, che poi è finito e questa fine, questo abbandono l'hanno ferita e la lasciano ancora ferita oggi, anche se nel frattempo lei ha sposato un altro uomo, ha avuto due figli, una appena maggiorenne, l'altro è uscito dall'adolescenza. Poi c'è un altro dolore più recente perché Iris è incappata per caso a Gerusalemme dove vive in un atto terroristico, è saltato in aria a un bus con dei morti e feriti, una tragedia, lei era lì accanto ed è rimasta gravemente ferita, ha passato die mesi in ospedale, ha subito molte operazioni, ha il bacino fratturato e porta dunque la cicatrice fisica, ma anche nell'animo di questa terribile esperienza, però poi il libro narra la vita consueta di Iris, le accadono delle cose, forse il perduto amore non è così perduto, chissà, io non anticipo nulla, ma c'è la quotidianità con il suo battito, Iris ha un marito con cui il rapporto è un po' indifferente, di routine, ha i figli con tutti i problemi, i genitori figli che si conoscono, ha le amiche, ha le contraddizioni, le tentazioni, è una quotidianità scandita dalla scrittrice con una narrazione molto bella, quasi carnale, ci sono pagine piene di ritmo, di sensualità, ci sono riflessioni in commistione con dialoghi in presa diretta molto secchi, molto vivaci. Ecco la qualità maggiore di questa narratrice israeliana che ha passato da poco la cinquantina è quella di essere appunto scrittrice pura, il dono della narrazione lucidissima, bella, ritmata, ogni pagina richiama in modo compulsivo il desiderio della pagina successiva, e scusate se è poco. Dunque Zerui a Shalef, Dolore, edito da Feltrinelli. 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 Feltrinelli.